Non abbiamo bisogno di supereroi, non abbiamo bisogno neppure di superbia, tantomeno di superficialità. Abbiamo bisogno di profondità, non abbiamo bisogno di ideologie per affrontare i temi e i veri problemi del mondo, ma di chiarezza, di lucidità, di ampiezza, di profondità. Il caffè è più buono se ristretto, forte sì ma non troppo lungo. Se vuoi prenderti il tempo per gustarti una brioche, molto meglio il cappuccino, sempre forte ma pacato. Un cappuccino con Paolo quando il tempo di un caffè non basta più, sempre con Paolo Pugni. Che cos'è un'ideologia? L'ideologia è una visione limitata della realtà perché è una pretesa di verità, è una generalizzazione, è giustizialismo. Ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Noi siamo i buoni, noi siamo quelli che abbiamo la verità, noi siamo quelli che difendiamo i diritti, quelli giusti, quelli veri, quelli che contano. E ignoriamo totalmente, l'ideologia ignora totalmente cosa sia la persona umana. La persona umana è quello che dicono loro e non è una rappresentazione della realtà. Non capisce cosa sia persona umana, non capisce ad esempio quello che sta capitando in questi giorni, la differenza tra istinto, impulso e applicazione della volontà. Io sento, ci sono delle cose che sento, è fisico, gli istinti sono fatti per controllare la difesa della persona e sono tutte derivazioni dell'istinto di sopravvivenza della persona e della specie. Io sento qualcosa, sento di continuo qualcosa, provo lo stimolo della fame, della sete, del freddo o del caldo, delle tentazioni, come oggi le chiameremmo, qualunque tipo, dell'egoismo, perché fa parte dell'istinto di sopravvivenza. La differenza che esiste tra uomo e donna, tra cromosoma XX e cromosoma XY, è dimostrata anche nel sentire le cose, come le sento. L'ideologia non ne tiene conto, l'ideologia continua a procedere per sbalzi. Uno degli elementi che caratterizzano le ideologie è la mancanza di visione completa. Così come qualcuno ha scritto sul giornale, nel momento in cui ci viene detto che non c'è più né maschio femmina perché è tutt'uno, perché c'è una fluidità e ognuno può decidere quello che vuole essere, viene messo il maschio sotto la luce della colpevolezza in quanto tale, non in quanto persona responsabile delle proprie azioni, magari anche indotte da un particolare tipo di cultura, le cui radici andrebbero per bene esplorate. No, ma quindi siamo fluidi o siamo divisi in maniera molto netta. Non solo, ma la violenza va condannata in tutti i casi. E allora perché coloro che inneggiano alla condanna di ogni tipo di violenza inneggiano all'uccisione, all'impiccagione di coloro che loro considerano nemici, cattivi? Quindi c'è una violenza buona? Per esempio, anche qui un commento che ho trovato su LinkedIn che mi è sembrato delirante nella sua incapacità di lucidità, è quello di qualcuno che ha pubblicato a proposito della tragedia che ha colpito di recente il nostro paese con l'omicidio di una ragazza, che è uno dei tanti tra l'altro, e sottolineiamolo da due ragioni. Prima perché è una tragedia diffusa, diffusa, non può essere trascurata. Dell'altro perché una domanda è come mai questa volta siamo così focalizzati su questo tragico evento e le altre volte no. O quando la colpa è commessa da altre tipologie di persone no. Ma questo è da parte. Ecco, comunque per rifarsi a quello e rifarsi al fatto di doversi difendere in certe situazioni, ha proposto una scena di un film sociologico, comico, come un gatto intangenziale, in cui la regista attrice che oggi va per la maggiore, in questo caso come attrice, per difendere all'interno di un centro di protezione una compagna di presenza dalle scalmanate accuse del marito, lo prende a testate. In questo caso quindi la violenza è ammessa. Quindi non è vero che la violenza non va mai bene, c'è una violenza che va bene, il punto è chi lo decide se va bene o no. Quali sono i criteri con i quali vengono decisi questi elementi? Sono i buoni a doverlo decidere? È una violenza di ritorno, quindi è una difesa, una legittima difesa? E chi definisce legittima la difesa? Quando una difesa è legittima? Esistono dei criteri universali che lo definiscono? Oppure sono i nostri che hanno sempre ragione? Così come è il caso della cancel culture, che andiamo a cancellare tutte le cose. Qual è l'errore di fondo? Questa mancanza di visione totale è che non viene pensata ambientata in un particolare mondo, viene pensata oggi. Per cui cose che in una cultura di 1500, 800 anni fa, 2 milioni di anni fa, ma magari anche fra 500 anni, avevano senso, non ce l'hanno nel mondo di oggi. È normale. È normale. Si chiama evoluzione, si chiama progresso, si chiama accrescimento della consapevolezza, si chiama umanità. Ma dobbiamo cancellarlo? Dobbiamo rimuoverlo? Dobbiamo fingere che non sia mai esistito? Questo non è rimozione, questo è senso di colpa che vuole essere nascosto. Io non ho nulla a che vedere con i miei padri. Mi sembra che lo dicessero anche i farisei. Noi non siamo come i nostri padri che uccisero i profeti. E la risposta è, beh, siete voi a testimoniare che furono i vostri padri ad uccidere i profeti. Molto lucida come risposta. Ecco, l'ideologia è questa incapacità di mettere di fianco le cose sul tavolo e guardarle con pienezza. Diffidate da tutto quello che non ha una visione ampia e che quindi ammette anche le ombre. Perché non c'è nulla, non c'è nessuno che non abbia ombre, non c'è nessuna idea che non abbia dei lati che vanno compresi o che addirittura sono negativi. Perché questo fa parte della natura dell'uomo. Buon cappuccino a tutti. Un cappuccino con Paolo va in onda grazie a Podbits, il team che ti aiuta a tradurre le tue idee in podcast e la tua voce in libri. Trovi tutti i caffè e i cappuccini con Paolo sul canale Telegram telegram.me slash caffè con Paolo. Senza l'articolo, mi raccomando, caffè con Paolo. Sempre su Telegram puoi contattarmi telegram.me slash paolo pugni. Grazie e alla prossima puntata.